Ragazzi ben ritrovati, terzo capitolo di Uncharted. Sì, siamo sub, ma che cavolo dobbiamo fare? Sì, ci siamo trovati qui, ma cerchiamo un giro, che ne so, poi in mezzo all'erba blu c'è un cazzo, tieni per punto ok, ma cos'è che devo cercare? Sì, non ti dà aspettazione, devi girare a caso così, credebbiamo andare a timore, su? No, cos'è che devo cercare? Ma io vado a tentarti. Sì, concentrati. Ok. C'è il blu. Sì, sul fondo? Cioè non ti dicono meglio cosa devi cercare, quindi cosa dobbiamo fare? Ah no, entro ancora quello. C'è il mio fondo? Eh, sto ben finito. Ah, il suggerimento. Io stavo girando di là, cavolo. Se qui c'è sempre i suggerimenti sono utili. Eh, sono qua, e adesso? Questo regno qua, vediamo. Ah no, è rocciato, mi sa a caso. Qua sotto? Per me. Ecco qui. Ah, un tesoro. Beh, meglio ancora. Cos'è che dobbiamo trovare? Cos'è che dobbiamo trovare? Cos'è che dobbiamo trovare? Se ti dicessero almeno... non sarebbe tutto sto casino. Eccolo. Eccolo. Cos'è? Niente ruggine, il colore è quello. Forse ha colpito le rocce ed è arrotolato. Cosa? Ehi, cosa Borbotti? Scusa, sembra un pezzo del relitto. Non può essere tanto lontano. Musica per le mie orecchie, Drey, che continua? Beh, è relitto, quindi va già bene. Eccolo qua. Qua, l'interno caduto. Eh, eccolo. L'ho trovato. Bene, com'è messo? E' un bel colcio, ma è integro. Posso che sia integro? Quello che c'è dentro vado qua. Qua, qua. Ecco qui. Gli assi sono in buono stato. Potremmo utilizzarli per sollevare l'intero carico. Ottima idea. Eh beh, speriamo che regano almeno. Sembra che non ci spacchi tutto. Ah, no, no, che qua, qua, qua. Ok, e poi. Devo prendere la porta. Ah, sì sì, voglio andare ad aprirla. Ok. Ok. Uno, e due. Giorno ragazzi. Ok, sono dentro. Bene. La maggior parte è ancora qui. Abusivi. Bene. Ecco il carico. Ok, secondo i miei calcoli mancano due casse. Vado a recuperarle. Aspetta. Che dici di risalire e prendere una bombola carica? Una cassa deve essere nitta. L'ho trovata una. Una, bene. La seconda. La cassa è incastrata sotto il rimorchio. Facciamo così. Occupati prima dell'altra cassa. Poi solliveremo noi il rimorchio. Vedi, è per questo che sei stravaganzo. Ah ah ah. Non lo devo trovare un altro. Oh, si è racchiuso il rimorchio. Come fanno a sfrugliare così le casse? Oh, si tritrasportano? Sì, deve essere un giro. In mezzo all'erba? No. Ma questa bombola? No. Qua no. Qua neanche. davanti al rimorchio. No, la cassa non può essere così lontana. Allora, eh, non lo so. La cassa deve essere più vicina al rimorchio. Vabbè, ma c'è grado. Scola qui. Ha fatto un bello sessionale. Bene, ne manca una. Fissala nel rimorchio. Siamo vicino a te. Bene, a tra poco. Dove l'ho avuto dentro al rimorchio? No. Vai più veloce, più veloce. No. Dai, no, mettiamoli in ordine. C'è un po' di ordine, no? Qua. Lasciala. Ah, dai, dai. Sali. Qua. Buttala nel rimorchio. Manca l'ultima. Lempismo perfetto. Siamo sopra di te. La cru sta scendendo. Che pena no che me la va a finire. Dai, dai. Ecco qui. Stiamo scendendo. Comincio a capricci qualcosa di questa missione. Anzi, ma... Un po' sorta. Vediamo di sollevarlo un po'. Come? Ah. Ok, io ho il capo. Prova ad appoggerlo attorno a uno degli assi. Dovrebbe andare. Eh, sì. Ok. Oh. Avvolgi, avvolgi, avvolgi. Non ce la fa più. Oh. Ce la fai? Ce la fai? Che cazzo? C'è baggato tutto. Ah, avvolgi. Ho fatto tutto. Bene, occhio all'ossigeno adesso. Va bene. Sempre a rompere le spalle con l'ossigeno. E' l'altro asseppo. Giro. Su. Su. E' amore. Va. E' il secondo è andato. Ok, il rimarchio è pronto. Perfetto. Allontanare, ti lo speriamo. Quando volete. E adesso ci siamo. Non mi riempiamo sotto. Puggerla di casa. Ok. È sufficiente? Sì, è a posto. Fatemelo che devo addosso. Eh eh. Non posso promettertelo. Ok. Ho l'altra casa. La fisso insieme alle altre. Sistema. Io ho il mio sistema. Ah, il sistema Star Wars. Sistema. Prima di tutto. Ok. Sistemala qui. Ora sono tutte. Dai, forza. Così. Bene, tutto chiuso. Sistemato. Un po' di più. Un po' di più. Un po' di più. Un po' troppo. E poi è stato un po' troppo. Sapevo io. Si spacca a metà. E con 5 minuti di ossigeno avanzati. Ah, bello. Ehi, che ne dici di restare ancora un po'. Potresti trovare altri tesori qui. Puoi farlo te? Non può passare così. Un passaggio? Ebbe gradito. Dimmi quando sei sulla crew. Ok. Qui, qui, qui. Ce l'abbiamo fatta. Ok, ci sono. Miratemi fuori. Riccevuto. Ristaviamo. Che passevo a rossi giudice. Vincere. Il g得to lo facciamo bene o do più faticare. Sono rasti gli sti vinghi. Ma, nel secondo. Non sono rasti, ma troppo. Non rasti. Guarda che splendore. Come ti senti? Spendere con... Leggiorno, ora che sono uscito da un fione. Cazzerò di pesce per una settimana. Ok, stiamo arrivando, resisti? Ce lo prendi? Guarda che fanno ora, eh? E' ancora l'acqua dentro... Che c'è? Ok, posso scendere adesso? Che c'è? Fortuna che non lo devo interagere, come mi chiede? Aspettate, ci stiamo uguali... Fatto! Ecco! La bambola è leggera come una più! Cerco di agevolarti il lavoro! Oh, io vado via, ok? C'è un bel problema! Tu dico che dovevo mandare... Ok... Qui finiremo dopo... E' sto quale dice! Il mio eroe è! Eheh! Andiamo! Vediamo che hai preso! Vedete di darvi una volta! Ehi, la prossima volta lascia andare avanti qualcun'altro! Meriti una pausa! No, no, grazie! Risco stare a nodo! Certo! Beh... Ad ogni modo... C'è tempo! Nessuno può contraddirti! Ma andiamo alla delitti! No! No! Ma chi non fa per meno? Non ci credo! La concorrenza è agguerrita! Vediamo cosa c'è! Ehi... Stai aspettando a me? Intanto guardiamo qui! A te l'onore! No, ma tutto a me fa a te pare! Sì, certo! Grazie! Te lo fico in testo! Ecco qua! Cosa c'è? Ma cosa c'è? Sì! Wow! Guarda un po'! Cos'è? Dobbiamo del rame? Non hai idea di quanto valga questa roba? Il cliente ce lo pagherà a peso d'oro! Il rame! Non vuoi fonderlo e farne dei centesimi? Dai, andiamo a festeggiare! Offro il primo giro! Venire a bere con voi? No, no, no! Non ho più il fisico! Se non ti spiace sbrigo le scartoffie e poi... ...crollo sul divano! Un'altra volta? Ok, come vuoi! Ehi! Bella buona oggi! Buona volta! Grazie! E adesso ancora facciamo! Un rame! Il dengare che lo tagliano tutto è rame! Oh no! Ehi! Nate! Nate! Aspetta! Oh no! Ehi! Che ci fai qui? Fa un pennebore! Ho un regalo per te! Un regalo! Un regalo! Altre scartoffie! Che cos'è? Ho avuto una soffiata su quel relitto sommerso in Malesia! Oh no! Oh no! Una be' intatta! Sì! Basta solo prendere il carico! Sei un tipo tenace! Devo ammetterlo! E? Ci hanno anche dato i soldi per l'equipaggiamento! È tutto pronto! Tranne... Il mio uomo migliore! L'unico a cui affiderei questo incarico è diventato... Un coniglio! Primo i conigli sono creature adorabili! Secondo il contatto... Hai permessi? No! Non hai permessi! Senti! Nessuno otterrà quei permessi! Ma Nate! Non capisci che gioca a nostro favore! Niente permessi! Niente concorrenza! La nave è nostra! Niente permessi! Niente partenza! Nate! Sarebbero i soldi della pensione! Abbastanza per entrambi! Non so come la vedi tu! Ma non ho intenzione di recuperare i rottami fino a 60 anni! Tu si? Meglio della galera! Ora... Senti! Io mi tiro indietro! E dovresti farlo anche tu! Ok! Ma tienili tu! Fallo per me dai! Guarda che non cambierò idea! Ti chiedo di dormirci su! Va bene? Ci do un sopra i fogli? Saluta Carla e i ragazzi da parte mia! Senza impegno Nate! Ma pensaci su! Posso andare in galera o faccio anche adesso? Hai studiato da bravo scolaretto! Hai ristretto la rea di ricerca! Sarebbe la scoperta del secolo! Tutte le firme qua! Figlio di puttana! No! No, non so qua! Tu finirai in mezzo agli altri! Come si dice? Come si dicevano? Questo è un capitoio eh! Che vero! Che casa strana! Già finito il quarto capitolo! Ragazzi vado a capitoli dai! Finiamola qui! Ci vediamo al prossimo che sarà subito dopo questo! Ciao!